Eccoci insieme, lo spazio dedicato al mondo degli infermieri. Buongiorno a Simona Maiani, infermiera coordinatrice di clinica anestesiologica, terapia intensiva e neuro-rianimazione. Buongiorno. Allora, ci aiuta a capire il suo lavoro, insomma un reparto complesso, che tipologia di paziente viene ricoverato in questo contesto? Ma allora, la terapia intensiva accoglie diverse tipologie di pazienti. Abbiamo una parte che è sicuramente composta da pazienti che hanno delle gravi insufficienze respiratorie, pazienti politraumatizzati o pazienti neurolesi, quindi diciamo dai traumi cranici, emorragia cerebrale, eccetera, oppure anche dei pazienti chirurgici che magari per loro fragilità necessitano di un monitoraggio intensivo immediatamente dopo gli interventi. Quanti sono in totale i posti letto? Perché insomma l'assistenza deve essere, immagino rispetto ad altri reparti, molto più, diciamo così, presente, costante? Sì, allora innanzitutto devo dire che è una terapia intensiva effettivamente molto grande, perché abbiamo 28 posti letto e quindi ovviamente anche il rapporto infermieri-pazienti deve essere adeguato e quindi ad esempio i turni dei miei infermieri sono all'incirca composti da 13 unità, in modo che si possa garantire un rapporto infermiere-paziente di un infermiere a due posti letto. Come ci si forma per diventare coordinatori? Ma allora, personalmente io, vabbè, sono, ho iniziato, mi sono diplomata nel 93, poi nel 2005 ho conseguito il master in area critica in facoltà di Genova, e nel 2007 ho fatto il master di primo livello in management delle professioni sanitarie ed ostetriche, e quindi dal 2012 ho iniziato a coordinare nel reparto dove in realtà già lavoravo come infermiera turnista. Si potrebbe secondo lei migliorare questo percorso formativo in qualche modo, anche un riconoscimento economico, no? Se ne parla tanto in questi mesi. Sì, ovviamente sì, ma credo che la strada sia quella di richiedere necessariamente per il coordinamento un percorso un pochino più lungo, quindi con la laurea magistrale in infermieristica e un master in secondo livello. Ovviamente questo potrebbe aiutare ad avere un riconoscimento economico che in questo momento, diciamo, non è molto a favore dei coordinatori, soprattutto se si coordinano strutture veramente complesse. Qual è la funzione nel dettaglio di un coordinatore in un reparto, insomma, critico come quello della terapia intensiva, della rinimazione? Ma allora, il coordinatore è un po' sostanzialmente, funziona come una sorta così di padrone di casa che deve garantire che in qualche modo tutto funzioni. Quindi si occupa, diciamo, sicuramente principalmente della gestione delle risorse umane, quindi della gestione dei turni in base alle disponibilità, alle complessità assistenziali del momento e alle necessità organizzative del reparto. Poi si deve praticamente occupare a 360 gradi di tutto quello che è l'approvvigionamento del materiale, quindi diciamo dai farmaci alle attrezzature, eccetera. E con questo, se pensiamo ad un reparto di terapia intensiva, vuol dire moltissime apparecchiature e un'alta tecnologia avanzata. Ovviamente si occupa anche di interfacciarsi con tutte le altre professioni. In terapia intensiva si lavora a stretto contatto 24 ore su 24 con gli anestesisti e ci sono molte altre figure che, come dire, si avvicinano e entrano nel percorso di cura del paziente. Fisioterapisti, logopedisti, consulenti. In pratica bisogna verificare che ci sia una sorta di collaborazione, che le informazioni passino tra i vari professionisti in modo che il percorso di cura del paziente sia il più efficiente possibile e di qualità, ovviamente. Il personale, insomma, mi sembra di aver capito, quindi sono 13 persone da coordinare? Sono. In totale, praticamente, sono 83 infermieri più 3 osse. Sì, ovviamente per il turno, scusi. Sì, per il turno, diciamo, il turno è composto da 13 infermieri che turnano sulle 24 ore, più ovviamente ci sono, per fortuna, dico per me, ho praticamente 3 collaboratori che mi aiutano nella gestione quotidiana su mattina e pomeriggio. Anche perché, insomma, è un reparto complesso, poi abbiamo imparato a conoscerlo anche nei tempi del Covid. Senta, il vostro reparto è coinvolto anche nelle procedure di donazione degli organi, giusto? Sì, assolutamente sì, perché abbiamo, innanzitutto, all'interno abbiamo dei posti lati dedicati di neuroreanimazione, i pazienti vengono centralizzati molto spesso nella nostra terapia intensiva e quindi quando, diciamo, purtroppo si verifica la morte cerebrale, si iniziano le procedure di accertamento della morte cerebrale, allora si può entrare anche nel percorso della donazione degli organi. ed è, devo dire, un momento molto impegnativo dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista emotivo per tutto il personale, sicuramente. Quindi questo possiamo, diciamo, lo facciamo molto spesso, ma ce n'è sempre bisogno, visto il numero, insomma, di donazioni che possono essere sempre di più per salvare delle vite, e se è bene, diciamo, pensarci prima in qualche modo, questo può essere il messaggio? Sì, il messaggio che mi sento di dare a tutti è di cercare di, come dire, esprimere in anticipo, ovviamente, la propria volontà o non volontà alla donazione degli organi e questo può essere fatto attraverso vari modi, tipo, vabbè, l'iscrizione all'Aido, la registrazione presso le proprie AS. Ma il modo in assoluto più semplice è quando si cirieca l'anagrafe per il rinnovo della carta d'identità. In quel momento fare presente se si ha la volontà di donare o non donare gli organi viene registrato e trasmesso al SIT, che è praticamente il sistema informativo della rete dei trapianti, che è quello che poi può essere consultato agevolmente nel momento in cui si ci trova davanti ad un inizio di accertamento di morte cerebrale. Il fatto di avere, diciamo, già scritto, in qualche modo, la volontà del paziente di voler essere donatore, in qualche modo alleggerisce sicuramente i familiari che si trovano in un momento ovviamente di disperazione per l'evento che si è verificato e in poche ore devono, in pratica, prendere una decisione. Se non ci sono delle, diciamo, evidenti manifestazioni, queste decisioni sono spesso strazianti, in un senso o nell'altro, ecco. Assolutamente. Grazie, grazie a Simona Maiani, con cui oggi abbiamo capito e compreso qualcosa di più del ruolo dell'infermiere in terapia intensiva. Buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie.